Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un unico gesto, abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! Nel primo volume della sua opera, La rivelazione di Ermete Trismegisto, Fesugère ha analizzato la mentalità dell'epoca, approssimativamente il II secolo d.C., nella quale vennero scritti la Sclepius e i trattati ermetici giunti fino a noi nella raccolta del Corpus Ermeticum. Da un punto di vista esteriore, quel mondo si presenta estremamente ben organizzato e pacifico. La Pax Romana aveva raggiunto il culmine della sua diffusione e le eterogenee popolazioni dell'impero erano governate da un'efficiente burocrazia. Eccellenti erano le comunicazioni lungo le grandi strade romane. Le classi colte avevano assorbito una cultura di tipo greco-romano basata sulle sette arti liberali. La condizione mentale e spirituale di questo mondo era singolare. Il possente sforzo intellettuale della filosofia greca si era esaurito, giungendo ad un punto morto, probabilmente a causa del fatto che il pensiero greco non aveva mai compiuto l'importante passo avanti verso la verifica sperimentale dell'ipotesi. Un passo, questo, che non sarebbe stato compiuto altro che 15 secoli più tardi con la nascita del pensiero scientifico moderno del Seicento. Il mondo del II secolo era stanco della dialettica greca che si mostrava incapace di raggiungere risultati sicuri. Platonici, stoici e picurei non sapevano far di meglio che ripetere le teorie delle loro diverse scuole senza cercare di spingere più oltre le loro ricerche, mentre le dottrine delle scuole venivano ridotte in termini manualistici, intrattati che costituirono il fondamento dell'istruzione filosofica in tutto l'impero. Nella misura in cui denuncia la sua origine greca, la filosofia degli scritti ermetici presenta questi tratti standardizzati con una infarinatura di platonismo, di neoplatonismo, di stoicismo e di altre scuole filosofiche greche. Tuttavia, questo mondo del II secolo cercava intensamente una conoscenza della realtà, una risposta ai propri problemi che l'educazione normale non era in grado di fornire. Perciò, esso si volgeva altrove per trovare tale risposta all'intuizione, al misticismo, alla magia. Poiché la ragione sembrava essere venuta meno al proprio compito, esso si dette a coltivare il nus, cioè la facoltà intuitiva dell'uomo. La filosofia doveva essere usata non alla stregua di un esercizio dialettico, ma come una via per conseguire una conoscenza intuitiva del divino ed anche del significato del mondo, in breve come un'agnosi, alla quale era necessario prepararsi attraverso una disciplina ascetica ed un comportamento religioso. Spesso i trattati ermetici, strutturati come dialoghi fra maestro e discepolo, culminano di solito in una specie di estasi nel corso della quale l'adepto si convince di aver ricevuto un'illuminazione prorompendo i ninni di lode. Si ha l'impressione che egli ottenga tale illuminazione attraverso la contemplazione del mondo o del cosmo, o piuttosto attraverso la contemplazione del cosmo così com'esso è riflesso nel nus o mens che ne evidenzia il divino significato, assicurando all'adepto un dominio spirituale su di esso come avviene nella ben nota rivelazione o esperienza agnostica dell'ascesa dell'anima attraverso le sfere dei pianeti fino alla sua immersione nel divino. In tal modo, quella religione del mondo che costituisce una specie di filone nascosto di gran parte del pensiero greco ed in particolare del platonismo e dello stoicismo nell'ermetismo diventa una religione vera e propria un culto senza templi e liturgia praticato nella solitudine della mente una filosofia religiosa o d'una religione filosofica contenente un agnosi. Gli uomini del secondo secolo avevano la ferma convinzione passata in seguito ai loro eredi rinascimentali che antichità fosse sinonimo di santità e di purezza e che i più antichi filosofi avessero una conoscenza degli dei di gran lunga superiore a quella degli irriducibili razionalisti loro successori da qui la vigorosa rinascita di motivi pitagorici in questo periodo altresì essi avevano l'impressione che tutto ciò che fosse remoto e distante possedesse una maggiore santità da qui il loro culto per i barbari i gimnosofisti indiani i magi persiani gli astrologi caldei la cui conoscenza veniva sentita improntata da una maggiore religiosità rispetto a quella dei greci nel crogiuolo dell'impero in cui tutte le religioni venivano tollerate molte erano le occasioni di venire a conoscenza dei culti orientali soprattutto gli egiziani erano venerati in quest'età i templi egiziani erano ancora frequentati e i devoti del mondo greco-romano anelanti alla verità e alla rivelazione divine erano soliti compiere pellegrinaggi a remoti templi egiziani e trascorrere la notte nei paraggi con la speranza di ricevere in sogno qualche visione dei misteri divini l'opinione che l'Egitto fosse la fonte originaria di ogni scienza e che i maggiori filosofi greci vi si fossero recati e avessero conversato con i sacerdoti del luogo era diffusa da molto tempo e nell'atmosfera spirituale del secondo secolo l'antica e misteriosa religione egiziana la supposta profondità di conoscenze di suoi sacerdoti la loro ascetica condotta di vita le pratiche di magia religiosa loro attribuite nei recessi più nascosti dei templi offrivano spunti di fortissima attrazione è questo stato d'animo filo egiziano del mondo greco romano che si riflette nella sclepio sermetico con tutte le singolari descrizioni delle pratiche magiche per mezzo delle quali i sacerdoti egiziani animavano le statue degli dèi e con la conturbante profezia secondo la quale la religione egiziana era destinata a distinguersi in quel momento così si sarebbe espresso ermetetris megisto sacerdote egiziano parlando al suo discepolo a sclepio in quel momento stanchi della vita gli uomini non considereranno più il mondo come degno oggetto della loro ammirazione e del loro rispetto questo tutto la miglior cosa che esista l'ottima fra tutte le cose del passato del presente e del futuro rischierà di perire gli uomini lo considereranno un fardello inutile e di conseguenza questa totalità dell'universo verrà disprezzata e non più venerata questa incomparabile creazione divina questa costruzione mirabile quest'ottima creazione costituita da un'infinita diversità di forme strumento della volontà di Dio il quale senza invidia elargisce la sua grazia a tutta la creazione in cui è riunito in un unico tutto in una diversità armoniosa tutto ciò che è degno di riverenza di lode e di amore in tal modo l'Egitto e la sua religione magica vengono identificati con la religione ermetica del mondo l'Egitto